ciao a tutti da iota e bentornati sul canale questa sera cooking simulator oggi proviamo questo nuovo gioco non l'ho mai provato è la prima volta ed è una come si suol dire blind con una musichetta strana di sottofondo che è un loop background music quindi bgm che si ripete all'impazzata ok proviamo speriamo che ci faccia fare il tutorial perché non so neanche i tasti ok benvenuto al cooking simulator come hai già notato il ristorante dei lavori non ha valutazione migliore non ha valutazione migliore il tuo compito rendilo di nuovo un posto di grande prestigio per l'ultimo chef ha lasciato il posto con i posti dovunque forse saranno utili bocca al lupo ok vuoi seguire il tutorial per il tuo primo certo perché non so niente vedo what introduzione qua è tutto distrutto ok si può correre a è oleoso 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 aspetta 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 allora sensibilità mouse forse aumentandola perché proprio striscia ci sta un po campo visivo velocità del testo andiamo più lenti tipo di controller no non ce l'ho però sto giocando con quello che è ok non lo so magari abbassiamo effetti medio qualità del vetro magari abbassiamo il vetro vediamo perché alla fin fine si vede qua applica chiudiamo ok primo passo è forse va un po meglio vabbè bisogna mi gira la testa secondo durante secondo durante queste due puoi vedere vabbè ok terzo questo tutorial si salva automaticamente fra le fasi ti perdi rimani bloccato puoi sempre ritornare ok ci ha salvato sembra che il proprietario di questo posto abbia lasciato in condizioni terribili infatti è tutto distrutto prendi il telefono dobbiamo chiamare i professionisti attenzione cosa c'è scritto qua non tuffarti nel cassonetto e adesso lo voglio fare mi dispiace una volta qualcosa si trova mi dispiace una volta qualcosa si trova lì resterà lì per sempre e la nostra politica quindi pensaci due volte prima di buttare qualcosa i clienti non pagheranno per qualcosa che ha buttato via ok gettare non mi interessa olioso 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 questo abbiamo usato per guardare le partite la domenica sul serio non farlo questi schermi sono veramente utili sai cosa hanno ordinato i clienti e quanto tempo ci manca la cosa migliore è che non devi memorizzare le ricette tutto quello che si trova vabbè allora cosa vuole il telefono ti prego si dimmi che si può sistemare la camera che disastro dobbiamo far funzionare la cucina gas segui il segnale prendi il tele e porta il telefono con te c'è veramente cioè ma in una stanza così piccola e così pesante c'è speriamo abbassare un po qualcosa occlusione ambientale c'è una 1080 fa fatica ah è il bloom il bloom lo spegniamo perché mi fa schifo ok vediamo vabbè ok quindi ripara cerca di non fallire in cucina quasi tutto costa soldi piatti particolari riparazioni non perde bisogno e tieni d'occhio saldo vabbè quindi che devo fare una cosa fatta o adesso oltre a non l'ho capito o ripara butta chiama il servizio di ripara a ma sono col mouse aspe ok ho capito ho capito vibrazioni tipo di controller velocità del mouse devo staccare il controllo perché sono lui vede il controller ed è una cosa assurda ok riproviamo allora ci siamo riproviamo chiudi quindi ruota butta ruota cos'è vuol dire controlli avanzati lo voglio riparare ok ripara cosa vuol dire non ci sto capendo niente ah ok forse ho capito adesso andiamo qua ripara apri chiudi ripara 1 minuto e 23 non 6 bravo quindi c'è un elicottero ce ne è un altro ancora questo ripara ottimo metti giù il telefono non l'useremo presto spero ok Avrei bisogno di questi numeri E' una cucina tipica Le cose si rompono frequentemente Ho aggiunto il numero di telefono In servizio di riparazione Più economico Nella memoria del telefono Non devi ringraziarmi Mi hai speso il cito volte Prima di assumere quello più economico Vabbè Poi E' stato divertente Ma dopo la polizia Ci ha beccato Per sgaricare giochi piratati Adesso ci sono solo Le cose noiose Finanza, ricetta, decorazione Il manager E' installato un software Di addosicino Ma non mi convince Poi Lascierei questo posto Dopo una settimana Se non per la ola bossa nova Che già C'è già la musica caricata Ma sentite a casa E quindi aggiungi quella che vuoi Vabbè Non mi interessa la musica Questo? Questo che stai guardando E' equipaggiamento militare Abbastanza potente Non è una sorpresa Che possiamo fare Ia Carne In 4 secondi Ma no Lasciarla per troppo Oh, un vero uomo Che gira la carne Con le pizziche Non con la spalla Pizzice Eh? Adesso sai come abbiamo perso Il nostro prestigio Il nostro forno Dipende da te Se vuoi riparare tutte e due Il forno è facile da riparare Ti consiglio di usare queste toglie Ricorda di scaldare il forno Prima di cucinare Vabbè Questo? Le patatine fritte sono importanti Il pulsante sinistro Ricarica la frigidrice Il pulsante destro Drena l'olio Ricorda di cambiare l'olio Regolarmente Ultima volta Che ho dimenticato di farlo Per tre mesi Alcuni clienti scrivevano Le stupidaggini Dicendo che usiamo L'olio del motore Vabbè Questo lo lasciamo Perché ci può servire Utile Questo Ci può servire Sto parlando come lui Allora Servire un cibo bruciato E cattivo Ma serve il cibo Pocotto E ancora peggio A volte non tutto Si riscalda Equamente Tieni d'occhio Sulle parti Che non si riscaldano Così veloce Che il resto Tieni d'occhio Sulle parti Che non si riscaldano Così veloce Come il resto Puoi sempre allargare L'immagine Per vedere Oddio ma La traduzione è fatta un po' male Quello che puoi fare È muoverlo in avanti Se hai troppo tempo Libero Puoi accelerare O saltare Tutta la fase Ma non ti lamentare Di non aver tempo Ah questo qua Trova le scatole di cartone Seleziona una scatola di cartone Aspetta voglio leggere Piastra Qui si frigge La carne E il pesce Tutto ciò Che Che non richiede Non esagerare Tutto dovrebbe essere a posto Ricorda di girare Il prodotto Quando la ricetta Richiede di farlo Praticamente l'uso di spatola È una buona idea Va bene Ok Qui che c'è Non ho nessuna idea Come mai queste scatole Possono contenere Tutta questa roba Eh è vero Se non ti piace Muoversi in cucina Con un solo pomodoro Nella mano Porta con te Il contenitore Vabbè La scatola Penso sia questa Seleziona la scheda di attrezzatura E compra un frullatore Utensili Frullatore Madonna mi Se è pesante Però Compra Adesso Metti il frullatore via Puoi portare una sola cosa Per tempo Va bene Allora Ruota Butta Accendi Controlli Metti giù Ah lo butta proprio È più facile Se spostiamo la scatola Sezione Ok Qua la devo mettere Per forza Sì Qua Ok Ok No Credo di aver fatto La prima cavolata Metti giù Madonna Appelo Proprio Ok Usa il negozio Per comprare L'attrezzatura Dalla lista Browser negozio Coltello Poi vedremo qual è il miglior piano di lavoro Padella La padella va qua Poi abbiamo una pentola grande Compriamo il pentolazzo Il pentolazzo lo mettiamo di qua Poi La Una spatola La spatola è utile Metterla qua Metti giù Metti giù Perché non lo mette giù Ok Qua sì Vabbè No L'ho preso di nuovo Ok Poi Un tagliere Scusa Lo shift aprirà nuovi modi di manipolare quello che tieni in mano No Io lo volevo mettere Qua Ecco qua Tensi sono molto affilati ma tu già sai Metti un coltello Metti un prodotto Prendi un coltello E spera Come dice la mia fidanzata la forma non ha importanza L'importante è che la grandezza sia giusta Assicurate che nessuno si strozzi Vabbè Lasciamo stare queste battute Poi Teglia da forno E naturalmente la teglia da forno La mettiamo qua Per adesso E Vuole un'altra pentola? E prendiamo un'altra pentola E sì però Fammi Fammela appoggiare per favore La mettiamo lì Ok Abbiamo gli utensili Non abbiamo le ricette Ok Ricette Clicca su ricette manager Clicca non possiduri per aprire il negozio Se magari toglie la scritta Grazie Compro un'acetta per trota al forno Cliccando sul pulsante evidenziato Trota al forno Questo sarà Beh La UI Cioè Potevano mettere compra Un tasto prende Vediamo qualcosa di facile Non lo so Prendi Cosa Questo Vabbè E l'ultimo La zuppa di pomodoro Un classico Non è vero Basta per ora Miglioreremo il nostro menu Quando il risotrante Chiudi il portale Come si fa Ah chiudi Ok Cos'è questo No ma c'è il giochino Se sei annoiato Puoi praticare il lancio di coltelli In 501 Hai 30 lanci Per raccogliere da 500 In 30 per Hai 30 lanci Per raccogliere i punti possibili Il mio regolo è 600 punti Cerca di battere Ma senza imbrogliare Devi rimanere a una certa distanza La luce deve essere verde Vabbè Ok vediamo riparazione L'attrezzatura Cosa devo fare? Che devo fare? È riparato? Vediamo riparazione L'attrezzatura Cioè ovvero Help me Compra il sale Entra alla vista negozio Meno male che c'è quello Vista negozio È questo Giusto? Ok Spezie e sale Compra Allora Siamo calmi No Qua Sale Eeeh Vabbè tutti Ho già capito Allora facciamo sale Aneto Pepe di Cayenna Allora facciamo così Pepe di Cayenna Perché li butta E non li poggia Il sale è invece quello che Sicuramente si userà di più Poi il pepe nero Ma c'è troppo confusione in strada Ho sbaglio Si può chiudere la finestra? Chiudi Chiudi finestra per favore No eh Cioè Per favore Per favore Un po' di silenzio Ok Raffano Ma Me lo dice cosa sono? Si Ma poi perché tutto dalla scatola? Perché non compro da lì? Vabbè Salvataggio ogni 5 secondi E questo Ok Abbiamo ancora qualcosa Ok Poi Che devo fa? C Entra nella vista negozio I liquidi Liquidi Brodo di pollo Cioè Madonna mia Che schifo è sta roba Mi fa un po' schifo Brodo di pollo Così proprio Vabbè Io posso fare anche da qua Olio di girasole Vabbè L'olio di girasole Deve andare per forza qua Quindi lo mettiamo qua E poi Pannacida Ma che schifezze è? Vabbè Ok ho fatto la mia parte Vediamo se tu te la cavi bene Voglio che tu mi serva la trota al forno Eh Come si fa? Alla fine ti giudicherò come un cliente Non ti preoccupare Avrai qualche aiuto Ho chiesto al mio amico di guidarti Ah meno mai Perché guarda onestamente Guarda qualcuno ha ordinato un piatto Una volta ordino il piatto Sarai notificato in alta a sinistra Quindi qua Va bene Quando ti mancherà un minuto per completare Quando sei un po' Tardo Un cliente se ne va via Va bene Ah guarda che c'è Allora Senti Gordon Però Sei andato via subito Allora Vai all'area segnata Ah qua Due 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 Tre Quattro Timo Timo è l'aneto Timo è l'aneto E ci sto provando Metti nel contenitore Metti nel contenitore Aspetta eh Perché Prendo la Prendo la teglia La metto qua Prendo questo E questo Ah ecco così Adesso mettila nel forno Ora Che si può mettere Questo forno no? Me l'aveva dato Me l'aveva dato Ah ok così Vabbè È qua Ma è diventata vuota Ma è che mi è caduto il pesce Mi è caduto il pesce Signori Attenzione È caduto il pesce Vabbè Madonna mia Allora Prendi la teglia Posa la cera Metti la cera Questo Poi questo Piano eh Perché se no cade Ok qua Ora Per accendere il forno Ok Lasciamo dentro per 90 secondi Ok Questo Come si fa? Imposta 90 secondi Quindi facciamo Com'è? Q 90 Qui sono 60 Quindi c'è la V No di meno Di meno 130 Giusto Giusto Ok Avvia timer È un po' brutto il timer Ok aspettiamo Abbiamo bisogno del limone Compro un limone Ma in frattempo andiamo a comprare un limone Ciao caro Mi dai un limone? Sì Mettilo sul tagliere Eccomi qua Adesso usa il coltello per tagliare il limone in quattro pezzi Aspetta però Si può ruotare? Come si ruota? Così Ok Ah beh lo mette sempre allo stesso modo Ok Quindi come si taglia? Entra nel contesto Cioè Ah così Ok 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 Allora facciamo così No Non l'ho tagliato Va bene Allora togliamo i due culetti Però non lo taglia Ok Poi prendiamo il limone E lo tagliamo in quattro parti Ok E' bruttissimo Perché non l'avrei mai tagliato Così Questo Via Poi Questo Via Prepara i quarti di limone Compro il limone Metti il limone sul tagliere Completato Ok Poi Aspettiamo Compra il piatto per trasferire i prodotti Ma lo potevi dire prima che sta scadendo? Ok Spegni Basta Ok E quindi Condisci con rafano essiccato Ma senza la sale Ma li abbiamo messo Rafano essiccato Quanto rafano? 5 grammi 1 2 3 4 5 Stavolta l'ha fatto giusto Prendi il piatto con la trota Prendi il piatto con la trota Adesso prendi i quarti di limone Allora 1 2 Il tagliere no però eh Madò Allora Eh No Il tagliere Vabbè Questo E questo Poi Adesso prendi i quarti di limone Seleziona per allargare la gamma Ok Quindi Finalmente metti un po' di prozzemolo Fresco sul piatto Bastano 6 grammi Ok Grammi Allora 1 Ne posso prendere più di 1? No Non ne puoi prendere più di 1 1 Non so quanti grammi sono 2 4 Penso 3 foglie Forse 760 gradi Cos'era quello lì? Ok Trota Trota Prezzemolo Fresco Ok Finalmente un po' di Ok l'ho fatto Bene fatto Il piatto è adesso Dove Servirlo Ok Servi il piatto Trota da forno Via Service Please Non ho assaggiato però Vabbè Check out E seleziona l'ordine Vuoi completare Ok Non posso aspettare Di assaggiarlo Ok Domani apriamo il nostro ristorante Farei il tuo mezzo Già domani Ma sta fettendo qualcosa Non c'è via d'uscita Bene Abbiamo fatto il primo Il tutorial Quindi in teoria è finito No? Bene È un po' un casino Però Non lo so Lo scopriremo più avanti Perché questo era solo il tutorial Quindi per oggi Direi che è tutto Alla prossima E come sempre Siete mitici Bye bye